Mi è piaciuto Timbalaye perché era il sogno della mia vita e finalmente ho potuto toccare con mano quello che ho studiato per tanti anni, quindi la cultura e la tradizione cubana e soprattutto della rumba. Sì, è fantastico anche perché sei a contatto con la gente, la gente ti coinvolge perché balli per le strade e hanno sempre il sorriso sulle labbra e ti coinvolgono in una maniera incredibile, è la cosa che è più bella insomma, essere coinvolti dalla gente del posto.